Questo invece è il lato che si trova a Parigi. Rappresenta una scena di censimento e di sacrificio, alla presenza del dio Marte, che è qui, il dio della guerra principalmente. Infatti il censimento, ovvero il controllo delle proprietà dei cittadini e l'aggiornamento delle liste elettorali, avveniva in Campo Marzio e si faceva un sacrificio a Marte. È un soggetto civico, quindi in perfetto stile romano. Sulla sinistra c'è la scena del censimento, con un funzionario seduto, con un registro sulle ginocchia, intento a trascrivere la dichiarazione di un cittadino romano. A destra c'è invece la scena del sacrificio, con un altare, al fianco del quale c'è Marte, probabilmente inteso di fronte all'altare, e dietro c'è il censore che sta effettuando la libagione sull'altare. Ancora più a destra c'è la processione con le vittime che saranno sacrificate, quindi un toro, una rete e un maiale, seguite dai soldati che rappresentano il popolo in armi che si riuniva nel Campo Marzio. A sinistra di Marte ci sono invece due musicanti, questi due, e due soldati, uno dei quali, questo qui, guarda in lontananza verso il censimento, proprio con la mano sulla fronte, che è il tipico gesto di chi guarda lontano, e segna quindi il passaggio dal momento amministrativo a quello religioso. Questo è un ingrandimento della zona dell'altare. Lo stile di quest'altro lato è completamente diverso. Qui vige uno schema rigido e paratattico, cioè continuo, con i personaggi accostati in fila, uno dietro l'altro, sullo stesso piano. È una raffigurazione estremamente didascalica. Inoltre è stata data grande importanza agli animali del sacrificio, che sono stati realizzati molto più grandi del normale, proprio per farli spiccare per importanza, per far notare l'importanza del solenne atto religioso e per indicare anche il gran numero di animali sacrificati. Questa rappresentazione degli animali da sacrificio in grandi dimensioni non è infrequente. Quindi sono due freggi completamente diversi fra di loro. E il motivo del loro accostamento in uno stesso monumento non è ancora chiaro. Anche per questa volta abbiamo finito. Vi ricordo che se volete commentare i nostri video lo potete fare dal nostro sito e potete seguire anche le nostre news sia sul sito che su Twitter. L'indirizzo è twitter.com.slashvidlab, scritto tutto minuscolo. Alla prossima!